ciao a tutti come promesso oggi in questo video vedremo come realizzare la decorazione che caratterizza questo pendente innanzitutto per iniziare dobbiamo realizzare la base quindi seguendo questo tutorial dovete creare questa prima realizzazione incastonando un cristallo svaroschi ovale misura 25 x 18 poi per realizzare la decorazione avete bisogno di un filo da tessitura naimo sono silon superlon 1g quello che preferite io vi consiglio una misura 0.20 millimetri perché è più semplice da lavorare con perline misura 15 0 poi naturalmente vi serve un ago io sto utilizzando un ago john james misura 12 e poi vi servono le perline due colori di perline rocaille misura 15 0 io sto scegliendo il colore matite e il colore argentato colore argento e poi vi serve un solo colore di perline rocaille misura 11 0 infine vi servono 10 bicono svaroschi da 3 millimetri adesso cominciamo innanzitutto dovete aver completato la vostra base completata la base con il filo vi dovete trovare ad uscire da questo bicono svaroschi vedete poi inserite sull'ago una coppia di perline rocaille misura 15 0 e con l'ago passata attraverso il bicono svaroschi successivo in questo modo e ripetete questo passaggio fino alla fine del giro perché fondamentalmente dobbiamo inserire una coppia di perline rocaille misura 15 0 negli spazi presenti tra i vari bicono arrivati al momento di aggiungere l'ultima coppia di perline ricordatevi con l'ago dovete passare attraverso il bicono svaroschi e poi dovete passare attraverso anche la coppia di perline rocaille 15 0 che si trova subito dopo adesso inserite sull'ago questa sequenza di perline una perlina colore matite una perlina colore argento una perlina colore matite e poi con l'ago passate attraverso questa perlina rocaille misura 11 0 di nuovo inserite sull'ago ancora la stessa sequenza di perline e poi ripassate attraverso la coppia di perline dalla quale siamo partiti poi con l'ago passate attraverso lo svaroschi successivo e la coppia di perline nere successiva e a questo punto potete ripetere esattamente gli stessi passaggi e ripeteteli in poche parole fino alla fine del giro come vedete ho completato la decorazione per tutta per tutto il perimetro della lavorazione sto uscendo da questo bicono svaroschi da 3 mm adesso con l'ago passa attraverso la coppia di perline successiva poi passa attraverso queste tre perline rocaille misura 15 0 e poi passo anche attraverso questa perlina rocaille misura 11 0 poi inserisco sull'ago questa sequenza una perlina rocaille misura 15 0 un bicono svaroschi da 3 mm e un'altra perlina rocaille misura 15 e poi passo attraverso la perlina rocaille misura 11 0 successiva poi con l'ago passa attraverso tutte queste perline rocaille 15 0 della solina fino a quando con l'ago esco da questa perlina rocaille misura 11 poi inserisco sull'ago la stessa sequenza di perline e faccio passare l'ago attraverso la perlina rocaille misura 11 0 successiva in questo modo e ripeto esattamente lo stesso passaggio fino a completare il giro come vedete anche in questo caso completato il giro e con il filo sto uscendo proprio da una delle perline rocaille 15 0 che si trova poco prima di uno svaroschi ho inserito sull'ago 5 perline rocaille misura 15 0 e poi con l'ago passo attraverso la perlina rocaille misura 15 0 che si trova proprio subito dopo lo svaroschi in questo modo adesso inserisco sull'ago una perlina argentata misura 11 0 quindi più grande e poi con l'ago passo attraverso la perlina 15 0 che si trova proprio poco prima dello svaroschi successivo e ripeto gli stessi passaggi fino a completare il giro così questa è la creazione completata dovete semplicemente chiudere il lavoro se non sapete come farlo vi rimando a quest'altro video potete vedere questo tutorial io spero che anche questo video sia stato chiaro vi sia d'ispirazione ci sentiamo al prossimo video ciao ciao